Ryzen 9000. Oggi parliamo del top di gamma, il 9950X che ho avuto l'opportunità di recensire e lo mettiamo a paragone con una marea di altri processori perché veramente l'ho testato contro tanti, tanti, tanti concorrenti sia di se stesso, della stessa casa, che appunto di Intel. Questa è una recensione che esce il 14 di agosto, so già che le rese delle views non saranno incredibili, quindi se voi quattro gatti siete qui a guardarla, super fedeli e gentili, lasciate anche un like, un commento in descrizione e vi sarei super grato. Ad ogni modo, vediamo un pochettino qual è la situazione per quanto riguarda questi processori. Partiamo dall'architettura. Diciamo che le differenze per questa generazione non sono poi grandissime come quelle per esempio che ci sono state tra Zen 3 e Zen 4, più che altro abbiamo qualche miglioria interessante rispetto alla generazione precedente. In particolare c'è un incremento nella cache L1 che aumenta in maniera sensibile rispetto alla generazione precedente e oltre a questo è stato anche ridotto il TDP sui tre modelli più piccoli, mentre il top di gamma rimane in pari con 170. Il 9900X avrà 120 Watt di TDP e invece i due piccoli 9700X e 9600X condividono i 65 Watt, cosa interessante perché è un caldo rispetto alle generazioni precedenti. Per quanto riguarda l'architettura c'è un piccolo miglioramento, non è un salto importante come quello dicevo tra 5000 e 7000, però effettivamente c'è un piccolo passo avanti. Si passa da N5 di TSMC a N4 con piccole migliorie per quanto riguarda l'efficienza che però rimangono un po' sulla carta, di questo ne parliamo più avanti nel video, state a guardare. Infine la differenza è anche nelle schede madri, tuttavia metto subito le mani avanti, il socket rimane sempre a M5 e c'è retrocompatibilità con la serie 600, quindi che abbiate una B650, X670 o X670E potrete utilizzare una qualsiasi di queste schede madri con l'attuale generazione di processore appena uscita, i 9000. Questo anche perché una marea delle schede madri 600 godono del BIOS Flashback, quindi della possibilità di aggiornare il BIOS senza l'utilizzo di un processore compatibile, cosa che rispetto alle generazioni precedenti è veramente molto molto più diffusa e questo aiuta tantissimo, non è necessario comprare per forza una scheda madri dell'ultima generazione, però staremo a vedere quali saranno le migliorie che faranno con la serie 800. Inizialmente si pensava che dovessero uscire soltanto le X870, X870E, però effettivamente in questa slide potete vedere che si parla anche di B850 e B840, quindi due versioni, una fascia media e una fascia bassa, che immagino siano le eredi della fascia bassa caratterizzate dal numero 20. Se a questo aggiungiamo poi un miglioramento dell'IPC di circa il 19%, almeno secondo le slide di AMD, queste sono le novità che si possono trovare su Zen 5. Ora passiamo un pochettino a vedere come si comportano. Per quanto riguarda i test, ragazzi, ho utilizzato due testbench, ovviamente il più simile possibile tra Intel e AMD. Per quanto riguarda quella della Casa Rossa, ho testato sia i 7000 che i 9000 sulla stessa, utilizzando una X670EE di Asus ROG Strix, accompagnata da 6000 MHz di RAM Dominator Titanium, che sono l'ultimo modello arrivato di Corsair, con questo design molto molto carino, devo dire. Sono anche finite nel mio PC personale, in un'altra versione, quando vi ho fatto vedere l'assemblaggio appunto del Corsair IQ Link. Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, la build è esattamente uguale da AMD a Intel. Cambiano solo i processori e la scheda madre, che invece nel caso di Intel è una Z790 Asterix. Tutte le tipologie di turbo boost nativi della scheda madre e del processore sono rimasti attivi, ho anche ovviamente inserito l'XMP, la resize bar e ho attivato il VBS, che sono tutte caratteristiche che ci dicono di attivare quando dobbiamo fare una recensione da anni e anni. Driver, sistema operativo e programmi sono tutti aggiornati alla loro ultima versione disponibile nel momento di test. Allora ragazzi, passando invece a quelli che sono test sul campo, ho fatto un pochettino di analisi per quanto riguarda sia la produttività che il gaming. C'è da dire però che il 9950X secondo me non è un processore che andrebbe valutato nel contesto del gaming, perché io dubito che esista una persona che lo compri esclusivamente per utilizzarlo in gaming. Cioè a quel punto prendi un 7800X3D, aspetta le versioni X3D, prendi un altro processore, però vabbè, io l'ho fatto. Poi adesso vediamo un attimino la produttività prima. Partiamo con Cinebench, test sintetico che ormai conoscete benissimo. In realtà è il render di uno dei programmi cinema 4D più noti al mondo, però effettivamente ci restituisce degli ottimi dati, molto molto stabili e consultabili facilmente. La situazione in single core per il 9950X è decisamente positiva, si difende molto bene e prende il top della classifica, in questo caso anche sopra l'I9 14900K. La situazione è anche abbastanza simile per invece la porzione del multi core, ma come potete vedere in questo caso il 14900K e il 13900K riprendono terreno posizionandoci leggermente sopra. Però c'è da dire che veramente la differenza è minimale. Siamo quasi nel range dell'errore che potrebbe esserci tra un calcolo e l'altro, quindi di per sé molto molto simili. Corona Benchmark ci permette di vedere un 9950X super aggressivo. Come potete vedere c'è un distacco veramente importante rispetto al 14900K ed è una cosa interessante da pensare perché comunque l'I9 di casa Intel è un 24 core. Per quanto sì, 16 core siano a bassa potenza, effettivamente il numero di core aiuta in questo tipo di render. Quindi potenza nuda e cruda, il 9950X si è difeso benissimo e devo dire stacca anche bene l'ultima generazione del 7950X 3D, però c'è da dire che gli X3D in particolare perdono un po' di prestazione in produttività rispetto alle controparti lisce. Situazione un pochettino più bilanciata invece per quanto riguarda Blender, ma comunque un distacco importante per il 9950X come potete vedere anche rispetto al blocco dei tre top di gamma. Più o meno il posizionamento in questo caso è veramente molto simile a quello che abbiamo visto prima, quindi niente di diverso, semplicemente un 9950X che domina la scena. Cambia un pochettino invece la situazione su Indigo, un'altra tipologia di render agnostico, per quanto riguarda questo caso invece abbiamo sempre il 9950X che domina la scena, soprattutto in bedroom dove si conta un pochettino di più la prestazione per quanto concerne il single core più che il multi core totale. Ed effettivamente potete vedere che anche il 7950X 3D in quel caso riesce a dare qualcosina di più. Probabilmente la cache L1 aumentata in questo caso mi fa pensare che sia di beneficio per questo contesto. Il 13900K e il 14900K si difendono bene invece per quanto riguarda le loro performance in multi core, in questo caso riprendono terreno e si vanno ad allineare molto molto vicini al nuovo top di gamma di AMD. In generale come avrete capito il 9950X ha dei distacchi più o meno ampi rispetto alla generazione precedente X3D e in questo caso anche rispetto agli 9 di Intel. Diciamo che non sono dei distacchi assurdi ma comunque ha dei cavalli importanti sui test come Corona e Blender dove diciamo che anche lì il contesto è un po' situazionale, nel senso non tutti fanno utilizzo della CPU per il contesto di render, però qualora serva della potenza di calcolo sappiamo che effettivamente la nuova generazione ha qualcosa da dire. Passiamo al gaming. A fronte di alcune cose che ho visto in alcuni video recenti io vorrei dire una cosa ragazzi, io i test gaming per i processori ve li propongo in 1080p anche con processori stratosferici come il 9950X che ovviamente non è un processore che abbeneresti ad una build in cui giochi in 1080p. Perché però? Perché semplicemente ci serve per sapere qual è la differenza prestazionale dei processori in situazione di torque, poi ovviamente sappiamo tutti che salendo dal 1080p al 4K si ha una riduzione dell'importanza del processore. Vi ho fatto un video al riguardo che potete tranquillamente andare a recuperare qui sul canale nella playlist centrale, guarda questi video se sei inesperto di PC. Quindi non vi sto consigliando di giocare in 1080p, semplicemente siamo qui per valutare le prestazioni del processore e quindi devo utilizzare il 1080p oppure non vedrei differenze, sarebbe tutto un po' uguale. Partiamo. Allora, la situazione in gaming è un po' particolare, a dir poco particolare, perché abbiamo Call of Duty per esempio che ci riporta un 9950X che si posiziona sotto alle due versioni X3D dei processori della generazione precedente, sia l'8 core che il 16 core corrispettivo. E anche il 13900K e il 14900K comunque non sono molto lontani da lui. Quindi di per sé vi dico, prestazione un po' deludente magari si potrebbe dire, nel senso molto tiepida, un approccio abbastanza tranquillo. Assassin's Creed Mirage è un altro gioco in cui il 9950X mostra un po' il fianco, sta sotto al 7800X3D dai miei test e molto molto lontano dal fratellone 7950X3D che invece riprende terreno rispetto a tutti quanti. Penso che questo gioco in qualche modo abbia beneficiato della presenza di tanti core della X3D, del 7950X3D, nonostante poi io nei miei test abbia sempre visto che utilizzi un core specifico a canna e tutti gli altri a riposo. Però effettivamente dai risultati sembra andargli bene. Per il resto potete notare però che Intel, nonostante sia sotto con, ma neanche di tanto in realtà, veramente molto vicina, con gli FPS medi, ha sempre un 1% lo migliore. Soprattutto praticamente il 14600K con un distacco abbastanza sensibile rispetto ai top di gamma di AMD potete vedere che non è troppo lontano in quel contesto. Questo si traduce nell'esperienza di gioco in meno stutter, cioè vuol dire che il processore riesce a tenere più stabile la situazione in gioco. Sarebbe utile se lo facesse per esempio anche con la situazione azionaria di Intel, perché in questo momento non se la passano proprio bene. Adesso passiamo a un po' di benchmark che mi hanno fatto dire che cosa sta succedendo. Perché mentre prima abbiamo avuto dei benchmark gaming un po' nella media, diciamo tiepidi, ora iniziano a uscire dei risultati un po' particolari. Hitman World of Assassination, gioco che io ancora gioco tantissimo. Potete vedere un blocco di processori molto vicini tra di loro con i due i9 e i due X3D di AMD. Ma se scendiamo sotto troviamo il 14600K. E solo dopo il 9950X. Con una prestazione di 9 FPS più bassa rispetto all'i5. Ci tengo a dire che questi test li ho ripetuti almeno una decina di volte perché non mi tornavano in nessun modo. Ma come potete vedere il 9950X in certi casi in gioco ha delle prestazioni molto anomale. Però ho visto un po' le recensioni del Ryzen 5 e del Ryzen 7 9000. Ragazzi, devo dire che non sono lontane neanche quelle situazioni di quei due processori. Quindi credo che questi risultati siano corretti. Cyberpunk è un altro di quei giochi che punisce terribilmente questa CPU. Guardatelo, trovate il 9950X in questo grafico, è sul fondo, è tra il 7700 e il 7600. Cosa è successo? Non lo so, onestamente non lo so. Ho ripetuto, ho controllato decine di volte questo test, ho anche riprovato gli stessi processori per vedere se magari non avessi sbagliato ad annotare. Sono tutti giusti gli altri, uno per uno. Il 9950X semplicemente non riesce a performare. C'è a dire che la differenza alla fine non è enorme, però comunque rispetto al 7800X3D questo processore ha 20 fps di differenza quasi. Cioè, percettivamente non è granché. Però ovviamente ti aspetteresti che il top di gamma della nuova generazione quantomeno riesca a competere vicino agli X3D della precedente. Non dico sopra, non per forza, perché comunque i giochi della X3D se ne beneficiano parecchio. Non lo so, è sul fondo. Ok, arrivati a questo punto vorrei farvi vedere ragazzi una cosa un po' particolare. Anche qui, è un test che ho ripetuto 20 volte, riavviato il gioco, reinstallato il BIOS, cambiato il RAM, ho provato ogni singola cosa. Non torna. Questa volta è in esplosivo. C'è qualcosa che non va su Fortnite con il 9950X. Ragazzi, Fortnite ha deciso che il 9950X gli stesse simpatico. Ci tengo a dire veramente, lo ripeto, ho ripetuto i test decine di volte. Non c'è modo. L'unico modo per pareggiare i risultati degli altri processori è mandare il 9950X contro il 1440p epico. Cioè, devo svantaggiarlo per portarlo alle prestazioni degli altri. Ora, non vi voglio dire che il 9950X sia meglio. Secondo me c'è un problema di fondo con Fortnite. Sta sbagliando qualcosa a livello di render e sta avvantaggiando il 9950X per un insieme di fattori che non sono riuscito a identificare. Ci tengo a dire, ci ho speso un'ora. Però di per sé, se tagliassi esattamente 100 FPS al 9950X sarebbe in linea con gli altri. Sarebbe perfettamente dentro, anche perché, guardate, il 1% low è veramente molto simile a quello dei top di gamma posizionati poco sotto. Per esempio il 14900K. Non lo so cos'è successo, però è molto divertente, devo dire. Per quanto riguarda Fortnite, per cercare di capire se la situazione fosse effettivamente veritiera a 360 gradi, ho cercato di creare una forzatura. Ho messo Fortnite in DirectX 11, che è una versione che spara molto più FPS, meno della modalità prestazioni, ma quello mi sembrava veramente eccessivo. E poi ho messo tutto al minimo. Proprio tutto al minimo e spostato, in questo caso, attraverso questo preset, l'impostazione della risoluzione 3D al 50%. Il risultato sono processori che sparano più di 500 FPS. Sento i gamer di Fortnite sbrodolare con il loro 540Hz. Preferiscono vedere i Pokémon del 2000, piuttosto che giocare, grazie di Dio. Comunque, la situazione prestazionale si riconferma. Come potete vedere, il 9950X sovraperforma in una maniera abbastanza importante. Diciamo che il distacco è nettamente inferiore a quel 50% che abbiamo visto prima, però al tempo stesso comunque si porta, sì, un centinaio di FPS sul 13900K. Riprende un po' di terreno il 7950X 3D in questo caso, ed effettivamente si posiziona a metà tra Intel e AMD di nuova generazione. Il curioso caso di Fortnite che favoriva il 9950X... Non so che dirvi, ragazzi. Simpatico. Ok, però, Fortnite a parte, le prestazioni in gioco, come avrete capito, non sono eccellenti. Non che mi aspettassi diversamente, nel senso che questa generazione è più una miglioria generale dell'offerta dei 7000. Però di per sé speravo che quel 19% riportato di uplift del IPC fosse qualcosa di concreto nel mondo reale, ecco. Non una cosa da dire nelle conferenze per far gasare gli investitori, o i fan, o chiunque voglia comprare qualcosa. Non c'è stato un grande riscontro a riguardo, quindi niente, ragazzi. Semplicemente aspettiamo di vedere un pochettino come se la cavaranno invece gli X3D generazione 9000, perché probabilmente saranno quelli a staccare in maniera sensibile i precedenti 7000 e a dare del riscontro contro Arrow Lake. Ok, passiamo a parlare di consumi e temperature. Allora, il 9950X, se lasciato libero, è particolarmente più aggressivo della generazione precedente con i consumi. Non tanto quanto Intel, ma comunque vi faccio vedere un po' di riscontri. Partiamo da Cinebench e partiamo dal basso. Col 7950X 3D, in questo caso lo potete vedersi difendere intorno ai 135-140 Watt di consumo, per ottenere una performance che poi viene tradotta nel risultato finale in circa 2000 punti. E questo va bene, cioè nel senso è un consumo relativamente alto, però comunque stiamo parlando di uno degli applicativi più pesanti che si possano fare su un computer. E poi vi metto il 9950X. Come potete vedere i consumi sono nettamente più alti. C'è a dire che la generazione X3D in generale ha delle consumi e delle temperature più moderate per vari motivi, insomma non li hanno spinti all'inverosimile. Però comunque rispetto alla scorsa generazione questo processore si spinge in maniera particolarmente forte. Potete vedere 200 Watt effettivamente di consumi, per un risultato che poi su Cinebench si concretizza in 10% praticamente di uplift prestazionale rispetto al 7950X 3D. Che ci tengo a dire, su Cinebench in particolare sottoperforma rispetto al corrispettivo liscio. Quindi di per sé il divario tra i due top di gamma è veramente molto molto piccolo. Ma non consuma tanto quanto Intel, che col 13900K, 14900K sono uguali, consuma 280 Watt. Sono tanti Intel, sono tanti 280 Watt. Un 40% in più rispetto al processore più energivoro del mercato di AMD. Per ottenere lo stesso risultato in Cinebench. Letteralmente una manciata di punti in più, 40% in più. Bisogna moderare questi processori manualmente, non c'è niente da dire. Situazione simile anche in Corona Benchmark, con un allineamento veramente molto molto simile a quello precedente. Effettivamente come potete vedere abbiamo questo 9950X che con la configurazione base consuma tantissimo. E questo ragazzi purtroppo, vi dico, si riflette anche in game. La cosa un pochettino mi spaventa perché effettivamente il 7950X 3D è un processore incredibilmente efficiente sotto questo punto di vista. Ha dei consumi sotto i 100 Watt, anche abbondantemente sotto i 100 Watt. Rimane tranquillissimo e onestamente è molto molto pregevole sotto questo punto di vista. Anche per la questione delle temperature. Il 9950X invece dal suo canto arriva a consumare per esempio in Hitman fino a 140 Watt. Ragazzi, io ve lo dico, è un valore veramente alto per un processore. C'è a dire che vabbè, ovviamente sta giocando in una situazione che è un pochettino artificiale. Nel senso che è spinto a dare il massimo degli FPS. Però al tempo stesso non penso sia troppo lontano dal contesto reale che vi possa offrire magari in questi gameplay di Call of Duty. Cioè, come potete vedere comunque i consumi sono particolarmente alti e ingenti. Più alti rispetto alla generazione precedente con dei risultati di FPS che però non sono sorprendenti. Nel senso, almeno ci fosse una crescita di FPS sensibile potremmo giustificarla in qualche modo. In questo caso vanno praticamente a giocare nel terreno dell'i9. Quindi di per sé male? Sì, abbastanza male. Per quanto riguarda i test, ragazzi, ho anche giocarellato un pochettino con le RAM e ho fatto semplicemente tre test produttività e tre test gaming con 6.000 e 7.200 MHz per vedere quali potessero essere le differenze se magari il 9950X non benefici di avere la stessa RAM con una frequenza migliore. Quindi ho preso due Corsair Dominator e ho fatto i test di nuovo. Ok, partiamo da Blender. Come potete vedere, in realtà, anche il nuovo incremento di RAM dei 7.200 MHz non porta dei benefici. Anzi, porta a una leggerissima riduzione delle performance. Il 9950X sembra non apprezzare questo incremento. Il resto ovviamente rimane tutto uguale. La differenza da notare è soltanto tra i 9950X nelle due versioni di RAM. Indigo Renderer ha una situazione abbastanza analoga. Cioè, nuovamente, perdiamo leggerissimamente delle prestazioni andando anche sotto al 14.900K per quanto riguarda il test di Supercar. Molto particolare. Sembra quasi che non gli piaccia. Ci tengo a dire che ho utilizzato soltanto l'AMD Expo per impostare i timing. Quindi di per sé non ho fatto grandi smanettate. Però, nel senso, è strano che ci siano dei cali prestazionali così importanti. Corona Benchmark, invece, ci restituisce un leggerissimo incremento prestazionale. Come potete vedere, si passa da 14.29 milioni a 14.38. Quindi di per sé c'è qualche incrementino, ma non stiamo parlando di tantissimo. Proprio piccolo piccolo. Passando al gaming, invece. Call of Duty Modern Warfare 3, come potete vedere, c'è una riduzione delle prestazioni. Ma siamo nell'ordine dell'errore percentuale, ragazzi. Due FPS su 349 non fanno testo. Quindi, fondamentalmente, non è cambiato niente. Non prendetelo come un peggioramento. Se fate il conto della percentuale, siamo sotto l'1%. Cioè, è troppo poco per valutarlo. Leggerissimo incremento prestazionale, invece, su Assassin's Creed Mirage. Come potete vedere, due FPS, anche in questo caso, siamo proprio sotto l'1%. Veramente, quindi niente di che, anche qui non è cambiato molto. Di per sé mi speravo, speravo ci fosse qualcosina di più. E Cyberpunk, invece, ci restituisce dei risultati in cui ancora piangiamo il fatto che il 7700X sia sopra a un processore da 649 dollari. Ed effettivamente non c'è nessun miglioramento. Anzi, perdiamo due FPS nel 1% low. Ma anche qui, nuovamente, errore statistico. Ci tengo a precisare. Non voglio dire che non ci possano essere in assoluto benefici. Magari in altri contesti ci sono. Però, dalla mia analisi, su sei test, ho notato solo un leggerissimo incremento in corona, positivamente. Quindi, per il resto, per adesso, non mi sembra un processore particolarmente portato per questa frequenza. Poi, ovviamente, possono arrivare 10.000 test a smentirmi. Io ho fatto solo un po' di analisi a campione per vedere se non ci fosse qualche miglioramento. Tutta piaceva dire una cosa molto particolare. Questa generazione si difende da Dio sull'argomento delle temperature. Ragazzi, io vi giuro che quando ho visto le temperature mi sono chiesto se non gli stessi sputando ghiaccio addosso. Sono freddissimi questi processori. Il 9950X con un 360 mm nemmeno lo manda in carico. Io avevo paura che si fossero fermate le ventole. Ma effettivamente 75 gradi. Tranquillissimo. Anche in Cinebench si difende molto, molto bene. Veramente fantastico. Sotto questo punto di vista hanno fatto un lavoro eccellente. Se questa è la linea che manterranno per tutti i processori da ora in poi, veramente molto, molto bene AMD. Specialmente dopo il lancio un po' disastroso dei 7000 che con l'impostazione automatica di sfruttare i 95 gradi come target aveva messo in allarme tantissima della popolazione dei PC gamer e dei lavoratori che volessero comprare questi processori al lancio. Quindi di per sé molto, molto bene chiunque abbia fatto questo cambiamento perché veramente le temperature sono eccellenti anche nei confronti di Intel che invece spara appunto ai 100 gradi, è aggressivissimo con le sue tecnologie di boost che sono attivate, ci tengo a dire, a stock. Io non ho toccato niente, è esattamente come ti consegna uno scheda madre processore. Allora, parliamo dell'argomento prezzi. Ragazzi, i processori ovviamente in Italia avranno dei prezzi diversi, si devono assestare, deve arrivare una scorta, siamo praticamente a ferragosto. Insomma, io penso che prima di settembre i prezzi giusti non ci saranno se non anche qualcosina dopo. Sapete che in Italia ci mettiamo sempre quelle due settimane in più di solito. Negli ultimi anni si è velocizzato un po', staremo a vedere. Il 9950X arriverà a 649 dollari, il 9900X a 499, il 9700X a 359 e il 9600X a 279. Questi prezzi sono leggermente più bassi dei prezzi di annuncio della serie 7000, il che è positivo, abbassare l'MSRP è sempre gradito. Diciamo che non sono delle differenze di prezze eccessive, però sono 50 dollari sul modello top di gamma, 20 dollari sul modello più piccolo. Va bene così, nel senso, anche perché effettivamente abbiamo visto che la differenza prestazionale non è poi così assurda, specialmente nel contesto del gaming. E adesso arriviamo a parlare anche di quello. In generale diciamo che in base a quanto si assestano comunque troveranno grossa concorrenza guardando Amazon al volo, per esempio dai 7000. Il 7900X in Italia in questo momento si trova a 394 e 95, che sono 100 euro meno dell'MSRP americano, del 9900X. Diciamo che ci sarà una dura concorrenza, specialmente con gli X3D sul mercato. AMD va contro AMD questa volta, non contro Intel. Allora, per quanto riguarda questi processori, ragazzi, Ryzen 9000, non ho ancora avuto modo di provare io stesso i due piccolini e il 9900X, quindi parlerò più che altro per il 9950X e un po' di opinioni che mi sono fatto guardando le recensioni dei piccoli che sono già usciti una settimana fa. La situazione è un po' particolare, nel senso la porzione prestazionale per quanto riguarda la produttività c'è. C'è un incremento, il 9950X in un bel po' di casi si è difeso bene. Diciamo che sotto quel contesto, con alti e bassi perché comunque in alcuni casi non ha preso troppa distanza, dipende poi comunque anche da quanto il programma benefici dalla presenza o meno di un buon processore, effettivamente si è visto un aumento prestazionale rispetto alle generazioni precedenti e agli altri processori di Intel. Su questo non gli si può dire niente, oltretutto questo si abbina, come dicevo prima, a delle temperature veramente ottime, cioè restituisce delle buonissime temperature con dissipatori giusti, come un 360mm, dovrebbe essere perché il 420 non è un vero dissipatore, raga, è un insulto, però di per sé, oh, fa il suo dovere, assolutamente sì, sotto questo punto di vista ci sta. I miei più che altro problemi sono con la situazione in gaming. Diciamo che il 9950X non dovrebbe assolutamente essere interpellato per questo mondo, perché non è un processore da gaming, però sappiamo che AMD propone delle slide in cui analizza anche le sue prestazioni in questo contesto, quindi di per sé se la sono un po' cercata. Diciamo che non c'è niente di entusiasmante, almeno io poi immagino che i test degli altri non saranno poi così diversi dai miei. E idem la situazione dei consumi. Questi processori sono veramente, veramente più aggressivi della generazione X3D precedente, che li stacca in termini prestazionali, in maniera anche abbastanza sensibile. Quindi di per sé mi viene da dire che proprio gli X3D hanno distrutto AMD. AMD ha distrutto AMD, totalmente. È difficile posizionarli in questo contesto. Diciamo che come generazione complessiva, secondo me, i due piccolini, 9700X e 9600X che ho visto recensire, sono quelli più deludenti, perché poi non portano neanche un grande beneficio in contesto di produttività. Il 9950X, almeno su questo ambito, si difende molto bene, nel senso abbiamo visto che stacca tanto. Le temperature ce li ha, però onestamente non è una differenza così assurda che mi faccia dire, oh, passate da 79 al 99, non ve lo direi mai. Se poi consideriamo i prezzi, ragazzi, ovviamente i 7000 continueranno a scendere come continueranno a scendere i 9000 e dubito che AMD si faccia concorrenza da sola. Quindi di per sé la situazione è ben complicata, devo essere onesto, specialmente per il fatto che ancora non sappiamo se le schede madri 800 porteranno dei benefici consistenti ai processori 7000 e 9000, perché effettivamente bisogna anche vedere se magari questa nuova generazione di schede madri per qualche motivo non porti dei benefici. Io non vorrei che AMD in questo momento stia facendo quello che prende il nome di sandbagging, per me è difficilissimo da dire, che vuol dire che fondamentalmente stanno aspettando che la concorrenza faccia una mossa, poi si tolgono i pesetti e riescono ad andare molto più veloci. E quindi di per sé ho paura che stiano trattenendo un po' le loro performance per qualche motivo assurdo, però è solo una teoria. Se queste sono le prestazioni finali, nel senso se non ci saranno dei grossi incrementi lato BIOS, RAM e nuove schede madri, diciamo che le vendite saranno decisamente più complicate di quelle dei 7000 e dei 7000 X3D. La nuova generazione di Intel si dovrà difendere comunque bene, perché già gli X3D sono molto competitivi, e a quanto pare entro la fine dell'anno vedremo anche i 9000 X3D, quindi di per sé se vi interessa il contesto del gaming magari potreste aspettare di vedere come sarà il Ryzen 7 9800 X3D, o come lo vorranno chiamare. Per il resto ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video, voi state su Mardentech, buone vacanze, buone cose a tutti quanti. Sana usa!